ciao peffino sempre presente a san giacomo bravo bravo grazie a tutti 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 siamo stati aiutati dal Bobbis e abbiamo avuto l'idea io e dei miei amici Nicola, Roberto, Erika, Toni e Giacomo speriamo che si divertano tutti, è una novità in zona, l'hanno fatta altri locali ma è la prima volta che viene fatta in questo paese speriamo di ripeterla e che sia piaciuta a tutti quanti grazie a tutti grazie a tutti è un piacere è un piacere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti tutti grazie a tutti grazie a tutti